Fumo nero su Gaza City. Le truppe israeliane sono nel cuore della città, lo rende noto l'esercito di Tel Aviv. Nelle ultime 24 ore colpiti anche numerosi obiettivi di Hezbollah in Libano. Le immagini diffuse dall'esercito israeliano mostrano i carri armati all'interno dei confini di Gaza City. Prima di spostarsi verso il centro, si combatte casa per casa. Durante una visita ad una base militare, il primo ministro Benjamin Netanyahu si è congratulato con le truppe israeliane. In un mese, ha dichiarato, sono stati colpiti 14.000 obiettivi di Hamas. Dopo ulteriori attacchi israeliani sulle città di Khan Yunis, Rafa e Dera al-Bala, nel sud di Gaza ci sarebbero altre decine di vittime. Secondo il ministero della sanità palestinese, il bilancio delle vittime ha superato quota 10.300, due terzi delle quali donne e bambini. Da Washington, il presidente americano Joe Biden ritiene che la rioccupazione di Gaza da parte di Israele non sia la cosa giusta da fare. Pronta la risposta del ministro israeliano per gli affari strategici, Ron Dermer, vogliamo che la striscia diventi un'area smilitarizzata. Intanto, gli aiuti nella striscia sono ancora insufficienti. Martedì, il Comitato internazionale della Croce Rossa ha dichiarato che un convoglio umanitario di cinque camioni e due veicoli è stato colpito vicino a Gaza City. Il convoglio umanitario trasportava forniture mediche salvavita ed era diretto verso l'ospedale di Al-Quds, gestito dalla Mezzaluna Rossa palestinese. La Croce Rossa non ha specificato chi abbia sparato al convoglio, da quale direzione provenisse il fuoco.